buon pomeriggio ci avviciniamo alla serata cari amici fan sempre nicola da lucia che vi parla stavo guardando che ha incominciato il torneo di viareggio femminile giunto se non mi sbaglio alla sua seconda edizione coppa carnevale andiamo quindi a fare un reso conto dei risultati della prima giornata che si sono giocati credo tra lunedì e martedì domani riprenderà il torneo allora ci sono state già alcune partite come sassuolo fiorentina 1 a 2 wetchester united genoa 0 2 juventus empoli 1 a 0 inter roma 1 a 3 per quanto riguarda i gironi nel primo girone la roma la juventus sono in destra tre punti nell'altro girone invece la fiorentina e genova sono a 3 a secco nel girone 1 empoli e inter a 0 e nel secondo wetchester e sassuolo a 0 le prossime partite come dicevo prima domani giovedì 13 febbraio avremo sassuolo wetchester fiorentina genova sabato le altre come del resto anche per quanto riguarda l'altro girone sia per giovedì che per sabato quindi buon viareggio k a tutti è l'edizione maschile ho letto proprio che si publierà nel mese prossimo di marzo ciao a tutti